Se ne va un amico? Sì, se ne va un amico con cui avevamo avuto rapporti affettuosi e cordiali, oltre che di tipo politico, fin dal 2004 quando è stato in giunta nella prima prima giunta a Gambacorta, per cinque anni, un lavoro duro, importante che abbiamo fatto, poi fumo tutti e due catapultati in consiglio provinciale, poi in giunta provinciale, nella giunta Sibiglia, dove abbiamo lavorato insieme fino al 2013. Negli ultimi tempi ci siamo sentiti molto spesso, sono anche andato a trovarlo a casa, in ospedale, purtroppo questo brutto male ci porta via una persona di grande concretezza, ma anche di capacità politica, di persona che l'amministratore ha dato il massimo per ogni volta che è stato impegnato in prima persona.